Oh, tss, oh, oh, ok, aspettiamoti, dai, speriamo che ti alzi, per favore, oh, oh, come stai? Ti ho dovuto operare perché avevi pieno di cose, di colpi, di prima, ok, ti aspetto nella sala Una Coca-Cola e siamo pronti, aspetta che entra un attimo nella sala conferenza C'è una città sera ilottante, adesso vedi? il un buono ovediamo se vediamo ma perchè qua non c'è nessuno che lavora ma what the bug? vabbè si si ma è scaramellato ecco sediamoci allora dovremmo fare l'ultima e dopo guarda facciamo anche da me che ti ricordo davvero per trovare è uguale vai vai no no ti dico che qua dobbiamo fare stealth stealth dobbiamo fare ok io direi di metterci quello quello che non ci volgo è uguale andiamo quindi qui magari c'è vai magari non so i joggers sono i joggers neri magari ce lo regalo non so tutto completo ma sarebbe bello sarebbe bello per fare l'altro però eh neanche notte aspetta vediamo che lo sono prendiamo l'elicottero sono le mezzanotte sono le mezzanotte è bello è bello è bello è bello è bello vai Sono sui 400 metri, mi sarà alto tipo uno su 500 metri, a me non mi fa vedere. E copilota non ti sento più? E mi sarà alto, mi sarà alto. Ok, spero che sia un po' il stand, ci ha detto all'estero. Quanto è alto? E non lo so perché non mi fa vedere se è un po' il 500 metri, quindi mi sarà alto tipo uno su 500 metri. Ma sono i missili! Adesso sono i strecchi missili, adesso sono i missili, adesso sono i missili, no la mitragliatrice. Vabbè comunque chiudi, facciamo chiudere, quindi andiamo per la stella. E' un botto comoda, scusate. E' un botto comoda, scusate. Non ti sento più copilota. Ok. 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 No, 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 guarda, ci sono riuscito. Guarda, aspetta. Tac. Allora, dobbiamo eliminare, prendi una pistola silenziata se ce l'hai. Eccola qua. No, 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 no. Allora, guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Vedi quelle due guardie? Vedi quelle due guardie? Ecco. Io... Quella più vicina e tu fai fuori quella più... Aspetta, no, no. Vedi quelle due guardie che si parlano? Sì. Ecco. Tu devi sparare a quella... Quella davanti. Quella lì che sta verso di noi, giusto? Sì, e io sparo quella dietro, al mio tre. Uno, due, tre. Devi sparare a quella in testa. Eh, no, ma tu hai sparato a quale? A un'altra. A quella lì verso di noi. Ma tu potessi sparare a Lorenzo che... Perché stavamo facendo un video. E metti parti da... Due. Metti parti da due. Raga, scusatemi ci... Scusate per l'introduzione, ma... Adesso parti da due. Scusate per l'introduzione, ma... Fa niente. Andiamo giù di qua? Ecco, pirata. Mi senti? Allora, non so da dove scendere. Ve lo dico. La quadra qua, da queste parti qua. Ci dovrebbe essere una scala, non so. Tu dove sei, vieni qua, vieni qua. Non ci vedono, diciamo. Lo so, ma credo che non ci vedano se scendiamo da qua. Aspetta, c'è una guardia. Fermo. Fermo, se scende così non ci vedono. Non so, lo uccido io. Ho prima uccito questo qua. Ti suggerisco la telecamera a te. Ciao, ciao, fratello mio. Meno male che non mi ha scoperto perché avevo preso il muro. Vabbè. Ah, ma faccio fuori la telecamera, aspetta. Oh, ma c'è uno, uno là. Ah, ok, l'abbè, l'ho già fatta fuori. Faccio, tu fai fuori la telecamera. Ah, no, no. Ma, ma credo che dobbiamo entrare. Sì, sì, dobbiamo entrare, è giusto. Ma dov'è sta guardia, però? Eccola. Scusa se attivo l'allarme. Ma credo che la devo attivare perché... Ok. Ma lei ci sono due guardie che si parlano da me. Che arriva, spero. Ma lei, non c'è ancora una guardia. Ma dovrei distruggere questa telecamera. Eccola là. Credo che sia questa. Aspetta che distruggo questa. Ok. Dove sei? Ok. Sono due guardie che si parlano. L'arrivo. Vieni. Sono due. E c'è anche una telecamera qui. Allora, io faccio solo quella lì che sta... che sta verso di noi. Che... Che guarda... Quella ver... Che guarda verso... Allora, non la spiego. Ti faccio fuori quella più vicina. Cioè quella in basso. E tu fai fuori quella in alto. Ok? No, aspetta, non capisco. Tu dove sei? Aspetta. Eccoti qua. Aspetta. Faccio fuori la guardia più vicina a noi. E tu fai fuori quella più in alto. Allora, tu... Tu fai fuori quale? Allora. Tu fai fuori quella più davanti a noi. Aspetta che devo distruggere la luce. Ok. Tu... Allora, io prendi in testa quella girata verso di noi. Con la girata verso... Aspetta. Non capisco. Non capisco. Aspetta. Tu prendi in testa quella girata che è verso di noi. Allora, tu spari a quella là davanti a noi. Cioè quella che... Con la faccia davanti a noi. Ok, sì, capito. Ok, al mio tre. Ok. Uno. Io sparo quella che sta guardando a noi. Io sparo quella... Aspetta, io sparo quella... Quella... Ok. Tre. Uno, vai. Ok. Nice. Adesso dovremmo scendere. Robo, non ti sei fatto niente. Ok. Aspetta. Aspetta, non farti vedere. Dopo dobbiamo distruggere... Dentro ci saranno altre guardie. Quindi dovremmo fare di nuovo tutto il stand. Stanno venendo. Nasconditi, arrivo. Vieni. Ah, le hai fatte fuori? Sì. Ok, entriamo. Aspetta che faccio fuori la camera. Dov'è l'entrata? Dov'è l'entrata? Eh, dov'è? Trovo un riparo. Ah! Vabbè. Ma io sono davanti... Esattamente là davanti, credo. Ah, no. Ma te! Fuori, insieme. Allora io quello che sta... Quello col vestito nero. Uno. Due. Due. Vai. Uno. Vai! Due. Tre. No, 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 no. Ah! Bravo, 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 bravo. Ok, adesso... Allora, con la camera. Sì, io intanto lo guardo, come si dice, ok. No, 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 no. Credo. Credo. No, non è qua. È davanti. Bapà, facciamo il giro, non c'è nessun problema. Ale, no, vai dalle... Vai dalle... Qua, qua, qua dobbiamo andare, qua! Fu. Eh. Non fanno non vederci. Qua c'era... Oh, criss... Sto afferro con ombro. Si era girato, si era. Guarda come è morto. Mi ricordo che avevamo fatto freddo tutte le telecamere, quindi... Vieni qua, dove ci sono io. Che bravo. Corriamo. Vieni. Ma anche di qua, Matte, ci sono... Matte, da me ci sono due, guardi che si stanno parlando. Faccio io una cosa... Pazza, ok. No, 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 ci sono due guardi da me. Sono molto pericoloso. Ok. No, no, no! No! Andrei, nasconditi lì! Da quella parte! Vabbò. Tu nasconditi qua dove c'ero prima io. Ah, e vabbò. Allora. Allora, allora. Faccio fuori quella verso di me, tu fai fuori quella verso di te. Ok. Al mio tre. Uno. Aspetta. Devo andare in prima persona, se no non prendo la mira giusta. Un attimo. Ok. Tre. Due. Uno. Vai. No! Non l'avevo presa, sorry. Andiamo. Qua, qua, qua. Fermo, fermo! Ok. Vado a te dire. Non da. Ok. Cosa devo fare? Vai, dai. Vai, dai. credo che ho fatto giusto non lo so ok l'ho fatto giusto ma yes giusto successo perfetto è capito come si fa adesso dobbiamo andare dall'altra parte quindi ci saranno altre guardie stiamo abbiamo il tempo ma te sto correndo all'impezzata non ci dovrebbe essere più guardie tanto guardiamo dalla mini mappa eh sì c'è una guardia ecco non mi ha scoperto meno male l'ho vista due guardie credo due guardi che si stanno parlando non lo so guardia da fuori salve hai visto una guardia che sto guardando da noi no perchè oh ci sono due guardie credo che si seguono non ne sono sicuro da me credo due guardie che si stanno parlando si si ma non capisco dove sono queste due guardie però non capisco ho accortato ma te dobbiamo dobbiamo fare due guardie che si stanno parlando vieni qua allora allora io faccio fuori quella dalla tua parte e io faccio fuori quella della mia al mio 3 1 ma madonna matti matti tu non sai che rischio hai fatto non so credo che non ci sono più guardie non lo so io la c allora eeeh oh oh casino qua perchè non ci aiutano ne ho facciamo cavolo yeah baby qualcuno dovrebbe essere giusto vero tutti sbagliati no non ho fatto uno giusto credo che sono giusti ok no ho l'ultimo tentativo ma adesso dovrebbero giusti 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 si anche io ok adesso credo che dobbiamo uscire e e abbiamo la police o do dobbiamo andare di una valle elicottero ma cosa no 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 sono messi malissimo ok ok andiamo all'uscita vabbè sto messi male ah a me non li ho neanche visti ma cosa ci sono quelli ma tu guardi ma no io non li vedo dal minimappa perchè ok ecco ma tu ci sei ma 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 mi dico non facciamo le forti ma ci sei ma andiamo ci sei ma ci sei ma ci sei ma ci sei ma 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 no aia aia Questa giubba tanti proietti non è il massimo, però vabbè, almeno mi ha salvato un po' la vita. Cosa vuoi? Quello che ti dà il 6-0 server, quindi non può essere mai il massimo. Oh, adesso speriamo che ci scoprano, perché alla fine abbiamo preso tutto steltro. Perché sono... Adesso vedo dalla mappa, non è male. Non l'avevo visto questo davvero. B400, B400. Arriva. Come, scusa? B400. B400, F400, va bene. F400? Stai arrivando. Dobbiamo salire su. E te come ti posso chiamare? Aia! B90. Ok, è mortale. No, ti prendo! Ok, t'ho preso. Ahia! No, ti chiamami tu, scusa. No, ti chiamami tu, scusa. F400. F400. F100. F100. E sono sopra. Eccomi, è qui. Sopra, 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 sopra. Oddio. Ok. Scusa, ma un mio amico mi continuavo a chiamare, ma vabbè. Sei? Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Raggiungi il tetto come prima. Aiuto! Non vieni qua, non vieni qua, non vieni qua. Apriti! Caggine di merda! Apriti! Niente, non mi può sempre fare forza di qua. Ma io voglio sparare a questo. Prende il mitraglione. Aia! Aspetta che mi medico un ottimo. La mira non è il massimo, ah. Sopra. Niente, dobbiamo per forza passare da sti qua. Aiuto! E poi c'è un momento. Eh? Qua più 90. C'è un'aiuto. Ok, dove sei? Io sono qua. Dove c'è la folla? Oddio! Medico! Ah! Arrivo! Oh! Ti porto in un posto di medico! Ok. Oddio! Ma è difficilissimo. Ma scusa, perché non ci poteva andare l'estero al posto di noi? Ah! Crivo! Non lo so. Perché? Perché lui ormai è stato colpito dall'età? Mmh. Ormai lui è oveggio. Vecchio. Giusto? Eh, non può più fare niente. Ma poi ci paga, quindi... Ha tantissimi soldi. Dopo aprire la mia pistola. Il mio... Il mio... Deto miser. Giocatelo. Però... Ti fa davvero male. Non lo so. No. Le ho viti in testa. sono P90 P90 dove sei? nel tunnel per hackerare grazie aspetta caprivi sali 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 si risvegli adesso pronto pronto ah io tutti dietro colpi ok sto giubato non è il massimo però dobbiamo ah ok grazie per avermi dedicato no 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 non nasconditi ma non è colpa mia è che io voglio voglio andarmene via da sto posto qua e quindi vado sempre contro 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 sconditi 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 fai fuori gli incontri no 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 Mi 90 ci sei Salve Sali Arriva Sali Entra Entra Adesso Io ho due colpi di lanciarazzi Nascosti Ho due colpi di lanciarazzi L'essere aveva detto che aveva messo il lanciarazzi Tipo qua Qui dove ci sono questi poliziotti Stai calmo Stai calmo Non ho fatto Vieni qua Ok Ho preso i due colpi di lanciarazzi che ci aveva dato Lester Aspetta Cerco di distruggere l'elicottero Distrutto Manca l'ultimo elicottero No Ne mancano due L'elicotteri Vieni qua Vieni qua C'è un elicottero sopra Tutto fuori uno Manca questo qua Aia Non l'avevo visto C'è un elicottero C'è un elicottero C'è un elicottero Ah Ho lanciato granate però Si copre dove ci copia noi No Io sono sul tetto Dove sei salito C'è un elicottero 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 Vieni 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 No Stavo correndo No dobbiamo prendere il nostro elicottero Dai 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 Aia Vieni Aia Basta 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 Lo guido io Ci aspetto Chiediamo gli sportelli Sper fammi usare a me i missili per fa Oh Non l'avevo vista Non l'avevo visto No Non l'avevo vista Fidiamo un attimo i missili Magari ci Magari colpiscono i missili Magari colpiscono i proiettili E esplodiamo Taglie Comunque dopo ci dobbiamo medicare Te lo dico Ti devo Indicare Sto bene io Devo medicare te Perché tu sei quello che sei Sì giusto che I proiettili Credo che mi hanno colpito al cuore Mi fa male un po' il cuore Ma vabbè Non malissimo ma un po' Attento Attento Cosa? Attento come guidi Attento come guidi Sto bene di tutto Certo Ecco c'è 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 e c'è 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 cioo Come si è c'è c'è c'è? Adesso mi potresti medicare Per favore Ah si aspetta Menomale che nel Ok ragazzi perché questo Secondo episodio da Noi ci vedremo Ad un prossimo episodio Ciao